Un milione e mezzo di euro, dei quali un milione e duecentomila destinati al regime di qualità IGP e 300.000 euro al DOP. Sono questi i numeri di un bando relativo ad azione di informazione e promozione relativa al comparto Livicolo pubblicato nell'ambito del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Calabria. Dunque un'opportunità per le aziende del settore per valorizzare i propri prodotti e le proprie tipicità in un comparto caratterizzato da un momento di crisi a causa delle avversità climatiche ma anche ai costi elevati e alla produzione in evase. L'obiettivo è puntare sulle caratteristiche qualitative di sostenibilità dei prodotti calabresi. Saranno finanziate attraverso questo bando, ha detto il consigliere regionale delegato all'agricoltura Mauro D'Acri, attività di informazione e promozione sui mercati interni dei consorsi di tutela o delle associazioni di produttori che promuovono l'acquisto e il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati da regimi di qualità. Dunque fondi che andranno a migliorare la conoscenza e il posizionamento sui mercati delle produzioni olivicole regionali di qualità.